allora benvenuti eccoci che voglio farvi vedere come fare con gimp qualcosa di questo tipo che è una scritta vedete che si legge nel mezzo del cammin di nostra vita eccetera le prime strofe di Dante Alighieri però vedete che abbiamo fatto un effetto molto molto interessante allora vi spiego come possiamo fare per ottenere una scritta di questo tipo usando il nostro amico gimp ora per fare tutto ciò occorre innanzitutto trovarsi un font adeguato e i font tra l'altro notate che tutto questo lavoro lo stiamo facendo su ubuntu che ho appena montato con ottimi risultati sul mio portatile e sto facendo anche la ripresa con un programmino molto semplice che si chiama record my desktop poi farò eventualmente anche un piccolo video anche su quello comunque prima cosa da fare è trovarsi un font adeguato come vedete io mi sono scaricato da www.dafont.com che è un sito incredibile di font gratis gratis in realtà per motivi non commerciali quindi personali e mi sono scaricato questo font eternal call allora nel momento in cui l'ho scaricato questo font eternal call viene scaricato come un punto zip questo punto zip l'ho dovuto poi quindi vedete che vado nel mio download e abbiamo eternal call che è questo che era un punto zip l'ho unzippato perché dentro questo oggetto ci sono c'è un esempio di uso vedete guardate che bello enjoy your life again on the road e poi c'è la copyright license che dice come deve essere usato e dice libero gratis per uso personale se no la proprietaria o il proprietario è mail che è ita e bisogna attribuire il questo font a questo signore o questa signora ma è il che comunque il font vero e proprio si chiama eternal call ttf e questo eternal call va messo in un punto strategico in particolare va messo sotto allora sotto ubuntu va messo sotto usr share fonts true type e sotto windows invece si può installare oppure aprire la cartella di font e trascinarglielo dentro quando si copia questo file dentro questa cartella quindi lo si fa con il terminale sotto ubuntu perché bisogna essere super user dopo di che però per farglielo prendere occorre dargli questo comandino qua che permette di fare la rilettura fc cache col sudo ovviamente vedete faccio sudo fc cache meno f meno v allora a questo punto qua tutti i font presenti sotto questo direttorio vengo questa cartella vengono registrati e vengono utilizzabili da gimp benissimo allora se questo si chiama eternal call ricordate che su ubuntu la e maiuscola è importante quindi andiamo sul nostro gimp allora gimp vedete qui ho già fatto questo effetto qua proviamo a rifarlo ex novo quindi come facciamo facciamo un nuovo template tutte queste cose valgono anche su windows lo prendiamo abbastanza grosso e abbiamo una scritta vuota dopo di che ci facciamo una scritta qua e qui gli mettiamo abbiamo detto eternal call vedete che se l'avete registrato correttamente abbiamo eternal call medium e lo mettiamo grosso 110 che è abbastanza grosso e qui cominciamo a scriverci quindi qui cominciamo a scriverci quello che abbiamo scritto prima oppure nel mezzo del cammin di nostra vita osservate come molto bello questo fondo in particolare mi ritrovai per una selva oscura che la retta via era smarrita ok allora già così è già buono tra l'altro possiamo anche cambiargli il font cioè il colore invece che verde la possiamo fare per esempio blu scuro ok quindi è già un po' più bello e poi la cosa che è molto incredibile di gimp è che c'è una serie di effettistiche che si possono fare sui testi quindi possiamo andare sui filters e poi possiamo fare alpha to logo e quell'effetto che abbiamo visto prima l'ho fatto con l'opzione frosty quindi con l'opzione frosty che vuol dire congelato praticamente lo faccio lanciare sparkling vuol dire che fa una specie di scintilla credo che lo faccia basandosi su dove c'è la maggior quantità di inchiostro e questo è tutto in tempo reale vedete che lui genera automaticamente tutto ciò che è necessario fa tutti i suoi lavori e vedete che ha ottenuto un altro effetto simile a quello di prima e vedete che si è concentrato appunto dove c'era una e questo è una cosa incredibile perché permette di fare a poco costo diciamo degli effetti notevoli facciamo ctrl z possiamo vedere altri effetti sempre da alpha to logo possiamo fare ad esempio alien glow questo è un po' più veloce da fare che viene praticamente in questo modo che non è male ctrl z possiamo provarne altri filters questi qui sono molto molto interessanti e fanno degli effetti questo qui chalk questo in particolare non è il massimo però quei due di prima abbiamo visto sono molto interessanti abbiamo visto alien glow eccetera ci sono anche degli effetti interessanti come ad esempio glowing hot poi qui potete anche cambiare quindi ottenere praticamente tipo il metallo fuso questo è un bellissimo effetto ctrl z e così via voi potete sperimentare tutte le possibilità che ci sono qua ad esempio qui ci sono anche delle delle possibilità di fare esempio clotify in questo caso non ho fatto niente non tutti fanno qualcosa filters artisti abbiamo detto clotify questo ho visto delle cose interessanti ah questo qui coffee stain è interessante sul decor questo qui fa simula praticamente delle macchie di caffè quindi serve per fare dei simula un paio di macchiette di caffè eccolo ctrl z e poi in questo caso il colore avrebbe ritoccato e così via insomma qui c'è solo la a chrome questo qui è anche abbastanza carino questo effetto e vedete che ottiene un bel effetto proprio cromato come se fosse fatta sul metallo cromato guardate perché ne ho visto un altro prima sempre cioè le più promettenti sono queste qua e ogni tanto perde la cosa quindi filter alfa to logo no niente ecco ci sono dei difettini se vi capita provate a riuscire a rientrare o a riselezionare tutto in qualche modo niente eventualmente lo rifate da capo comunque questa è più o meno la tecnica e adesso vedrete spero di passare questo video su youtube soltanto con mezzi abbastanza semplici disponibili su ubuntu vi ringrazio per questo ascolto ci sentiamo poi